com'è la collezione della prossima primavera estate 2021? Quelle che vedi qua sempre super relax, materiale luzioso, sempre wash wash, morbido per la buona vita. C'è qualche ispirazione che tua moglie segue per creare queste collezioni? No, c'è la sensibilità. Il tipo di sensibilità? Sì, quando piace, piace. Cosa cercano le vostre clienti dal vostro marchio? Da vivere bene, essere felice, è roba nostra. Non è un segno così moda, noi siamo non anti-moda, ma seguo quelli che piacciono. Come sta andando questa fiera, White? Surprisingly, buono, deve dire, sì, è un periodo un po' destabile, ma veramente positivo. Ci sono tanti buyer? Solo quel cliente che c'è, c'è sempre lo stesso cliente da 30 anni, dunque sono abituato al nostro prodotto, direi così. Come avete vissuto il lockdown? Come? Come avete vissuto il lockdown? Qui? Non ne frega niente, funziona. Sì. Progetti futuri legati al vostro marchio? Non tanto, cioè per il tappetti vai a introdurre un website che sarà sul mercato in tre settimana con un concetto diverso. Tutti questi non si possono vendere online. No. No, assolutamente. Nel futuro puntate all'online? Solo per il tappetti. Come mai questa scelta di puntare solo ai negozi fisici e non all'online, che è un po' una tendenza che un po' tutti seguono? Perché sono i nostri clienti vecchi, che ha creato il nostro successo e ho pensato che deve procedere. Se c'è un motivo per essere in business, deve essere che non posso trovare sull'internet. Dove producete? Ultima domanda. In Italia. In Piemonte. In Piemonte? Sì.